L'ultimo gravissimo episodio avvenuto lo scorso primo agosto, se collegato con gli altri analoghi fatti accaduti degli ultimi tempi, probabilmente restituisce l'esatta misura dell'inadeguata considerazione e sottovalutazione da parte del Ministero dell'Interno delle reali esigenze di una città e di un territorio complesso come quello pescarese. E' l'incipit della nota del sindacato italiano unitario lavoratori polizia segreteria provinciale di Pescara. Da tempo in memore il SIULP ha pubblicamente sollevato la questione della grave carenza degli organici degli uffici di polizia di questa provincia, che peraltro sarà gravata nell'immediato futuro dai tanti pensionamenti e dalle scarse assunzioni previste almeno per i prossimi tre anni, ma nessuna autorità pare abbia recepito tale situazione. Il segretario provinciale Orazio Colantuono Le istituzioni tutte, sia quelle tecniche che quelle politiche, hanno sottovalutato un po' la problematica di una classificazione della questura di Pescara al di sotto delle esigenze a cui deve corrispondere. Questo incide su tutti i tipi di servizio Questo dipende dal Ministero dell'Interno, però? Dipende dal Ministero dell'Interno, ma che a nostro avviso andrebbe sollecitato da chi rappresenta il territorio, sia come autorità di IPS, ma anche come rappresentanza politica. Il sindacato di polizia da sempre ha sollevato la questione proprio della grave carenza, direi, degli organici. Sì, è da tanto tempo che sollecitiamo questa cosa perché, quello che forse non si sa, sono previsti molti pensionamenti da qui a tre o quattro anni che non saranno assolutamente ripianati delle poche sostituzioni che l'amministrazione nostra è capace di sfornare con le scuole che sono efficienti. Pescara è ancora una città sicura, sì o no? Pescara è una città in cui avvengono fatti, così come avvengono in tutte le altre città. Il compito nostro è quello di analizzare questi fenomeni e di prevenirli o fronteggiarli in base alle risorse che abbiamo e quindi ritorniamo al discorso delle risorse. Se si decide di investire meglio sulla vigilanza del territorio con le risorse che abbiamo, andiamo a depaperare i settori investigative ed intelligence. Questo introduce anche un altro discorso che le tante domande di trasferimento da uffici operativi importanti, quali erano ad esempio la squadra mobile, senza voler gettare la croce addosso a nessuno, ma a nostro avviso sono il segnale che qualcosa nel sistema non va e va corretto.